Ci troviamo all'interno del palazzo della regione toscana. Vogliamo iniziare così questa nuova puntata di Cronache e Commenti. Il dibattito in aula è stato vivace per alcuni temi, fra questi il rendiconto 2023 che ha visto grande protagonista del dibattito il payback, cioè i soldi che in pratica dovevano rientrare dall'azienda farmaceutica in Toscana per andare così ad alimentare il bilancio della sanità. E dunque andiamo a parlare di questo e anche di altri argomenti. Come sempre però vogliamo iniziare dai temi principali di oggi con il sommario. Approvato con voto di maggioranza il rendiconto finanziario regionale 2023. La Corte Costituzionale dà l'ok sul payback. Adesso con un decreto ministeriale la regione potrà richiedere i soldi. Insediata la commissione d'inchiesta sull'alluvione di novembre 2023. Con 24 voti favorevoli del PD ed Italia Viva, 13 contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, 5 Stelle e Gruppo Misto, è stato approvato il rendiconto finanziario per il 2023 della regione. Il risultato amministrativo dello scorso anno si è chiuso con un utile poco sotto i 977 milioni di euro in aumento rispetto all'anno precedente che si era chiuso con 534 milioni di euro di utile. Tra le voci c'è quella di 35 milioni di euro accantonati come risultato di amministrazione del 2023 attraverso risorse regionali correnti. Questi soldi corrispondono alla spesa sostenuta da fondo sanitario per la compartecipazione agli oneri di ammortamento dei mutui per il finanziamento di investimenti sanitari. Alla voce entrate ci sono gli introiti riguardanti l'IRPEF passati dai 724 milioni del 2022 ai 914 del 2023, le tasse automobilistiche passate da 427 milioni del 2022 ai 433 milioni del 2023 e la diminuzione delle entrate dell'IRAP passate da 1 miliardo e 829 milioni del 2022 al miliardo e 784 milioni del 2023. Dalla parte opposta della medaglia in totale si sono registrate 1 miliardo e 51 milioni in più di spese rispetto al 2022. Seppur approvato l'aula si è spaccata su questo tema. Ma io sono molto orgoglioso perché il rendiconto 2024 ha portato dal 2015 al 2024 e 9 anni a ridurre il nostro disavanzo da 3 miliardi e mezzo a 1 miliardo e 2. L'abbiamo ridotto a un terzo di quello che era. Contemporaneamente ha visto nelle società partecipate, sempre messe sotto accusa, sotto rilievo, in realtà la somma dei loro utili è superiore ai 10 milioni, 10 milioni e 470. Contemporaneamente ha visto quanto gli interventi sulla sanità in realtà siano stati opportuni e gli stessi oneri di ammortamento sui mutui che vengono passati dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio ordinario arrivano quando sono diminuiti da 96 milioni a 17 milioni. Quindi è una buona condotta contabile e finanziaria dei conti da parte della Regione Toscana che ci fa essere orgogliosi. Per poter ottenere questi risultati era necessario che l'autorevolezza del Presidente, al di là della mia persona, può essere l'unico antitodo perché non si aprino delle voragini di spesa che poi non sappiamo come tenere sotto controllo. Il fatto di aver tenuto una bala da dritta nella ricerca di un progressivo alleggerimento degli oneri di debito della Regione è stata una soluzione vincente. Il rendiconto di quest'anno conferma e rafforza un trend positivo nelle situazioni finanziarie della Regione. Il grafico ho voluto esporlo perché manifesta in maniera grafica, immediatamente intuitiva, ecco quello che è la diminuzione del disavanzo che risale al 2015 quando le leggi consentivano di fare investimenti utilizzando la cassa e creando quindi una posta negativa sul bilancio. Questa tendenza è consolidata, anche la Corte dei Conti lo ha certificato, è dato atto alla Regione di uno sforzo importante per mettere i conti nell'ordine più possibile vicino alla riduzione dell'indebitamento e del disavanzo. Quindi le polemiche che ho ascoltato da parte delle opposizioni volte a cercare il pelo nell'uovo dimenticandoci invece delle operazioni che vanno nella direzione giusta, ecco ci sembrano oggettivamente obiezioni e rilievi pretestuosi e volte solo a giustificare un voto contrario. In politica si può dire tutto e il contrario di tutto anche di fronte ai numeri a volte, ma di fronte alla Corte dei Conti diventa veramente risibile. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, un miliardo e duecento milioni che verrà poi risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario, è uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria, perché oggettivamente di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messa in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario e è già la seconda volta che la Regione Toscana lo fa ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica, ebbene siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. La Regione Toscana e il Presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo e passare a 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne. Un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale, la gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza e su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici e poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa e riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini che sappiamo in concordato ma che è già acquistata 11 milioni di euro di svalutazione ma anche Fili Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa a fronte della quale il Presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, va da malamarchese. La Corte Costituzionale dà ragione alla Regione Toscana e conferma la legittimità di richiesta del payback sull'eccedenza dei dispositivi medici rispetto al fabisogno. In pratica il materiale medico come siringhe, mascherine, protesi, bisturi o stent per fare degli esempi che dal 2019 ad oggi è stato richiesto in più alle aziende farmaceutiche rispetto a quanto preventivato dovrà essere rimborsato economicamente dalle aziende stesse alla Regione. Circa 420 milioni in totale che entrerebbero nelle casse regionali e che andrebbero a ripianare il debito sulla sanità. Adesso basterà un decreto dello Stato per andare a richiedere il rimborso alle aziende interessate. Questo, ha annunciato Gianni, porterà all'estinzione dell'aumento dell'IRPEF indetto a gennaio di quest'anno. Avevo ragione io e sono soddisfatto del fatto che noi possiamo a questo punto vedere questa legittimità di norma costituzionale che nel 22 ci aveva non a caso fatto certificare 385 milioni circa di bilancio che portò al pareggio di bilancio. Ma nel 2023 non è stato così addirittura con il governo che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale che ci ha costretto a quel punto all'addizionale IRPEF e oggi invece ci rendiamo conto che avevamo ragione noi nel reclamare quel payback sui dispositivi medici e se fosse stata accettata non avremmo avuto la necessità di mettere l'addizionale IRPEF. Le cose sono andate così però a questo punto il governo può rimediare, può accordare ora quel riconoscimento di payback farmaceutico e se questo avvenisse io mi troverei a chiedere direttamente la revoca dell'addizionale IRPEF. Il payback non sarà rinnovato per i prossimi anni, è per questo che le opposizioni criticano le dichiarazioni di Gianni ed evidenziano come la situazione economica della sanità rimarrà imperdita anche nei prossimi anni. La regione non ha ragione sul payback perché vorrebbe indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale scaricare sulle imprese in ambito sanitario la propria incapacità di tenuta dei conti finanziari. Quanto emerge dal rendiconto è questo, in Toscana abbiamo oltre un miliardo e duecento milioni di euro di debiti, cresce il debito pro capite di tutti i cittadini toscani che arriva a 570 euro a testa, quindi significa che le bambine e i bambini che stanno nascendo, si spera tantissimo in queste ore, questa notte, domani avranno, nasceranno in culla, avranno un debito di 570 euro pro capite. Soprattutto la regione toscana ci dice la Corte dei Conti che utilizza i soldi che il governo gli dà per il servizio sanitario pubblico per pagare i debiti fatti nel passato e poi vorrebbe utilizzare appunto il meccanismo perverso del payback, cioè chiedere indietro i soldi alle imprese che hanno fornito strumentazione sanitaria, che se li hanno oltretutto li danno, se non li hanno non li danno. Ma un'altra valutazione che voglio fare, altrimenti non si è intellettualmente onesti. Il debito della regione toscana è un debito strutturale, quindi ogni anno la regione toscana ha più uscite che entrate. Il payback, anche se fosse possibile ottenerlo, anche se fosse realizzabile, comunque è un'entrata una tantum. Se noi pensiamo di coprire un disavanzo strutturale con un'entrata una tantum, è chiaro che facciamo un'operazione intellettualmente disonesta e quindi se si pensa in soldoni di abbassare l'IRPEF con il payback, si fa un'operazione del tutto demagogica che non avrà la possibilità di essere sostenuta, perché l'IRPEF che noi vorremmo riabbassare ma è un'entrata negli anni costante, il payback se ci sarà ci sarà una volta soltanto. Quindi se Gianni dice abbasso l'IRPEF con il payback dice una bugia e fa un'operazione che non è intellettualmente onesta. Tra i temi che il Consiglio regionale sta affrontando anche quello riguardante l'alluvione di novembre 2023. Il 22 luglio scorso si è insediata la Commissione regionale d'inchiesta sugli eventi alluvionali presieduta da Elisa Tozzi. Le consultazioni saranno avviate il 9 settembre e all'audizione sarà presente anche il Presidente Gianni. Dalle prime impressioni c'è collaborazione fra maggioranza e opposizione per capire come si è svolta la gestione dell'emergenza durante l'evento alluvionale. L'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a fare un lavoro quanto più condiviso possibile anche con un'unica relazione che però si muova attraverso diverse direttrici. Anzitutto diciamo quella che è stata la cronologia degli eventi, quindi ciò che è accaduto quella sera, partendo poi da tutto quello che è il sistema di allerta regionale, per poi passare a quello che è oggi la situazione da un punto di vista diciamo di infrastrutture, di interventi, di investimenti per quanto riguarda il rischio eterogeologico, dei vari comuni coinvolti anche e poi tutto quello che riguarda la parte diciamo della gestione emergenziale vera e propria, quindi i ristori con il coinvolgimento anche dei comitati dei cittadini che si sono costituiti in diverse parti della Toscana, pensiamo a Campi Bisenzio ma non solo, perché credo che quell'interlocuzione sia davvero fondamentale, oltre naturalmente al coinvolgimento della parte tecnica della struttura regionale, perché ciò che vogliamo davvero verificare e accertare, soprattutto lasciare poi anche a chi verrà dopo, è uno studio attento su quella che è la situazione della Toscana per poter approntare i necessari interventi e far sì che in qualche modo quello che è successo, non dico si possa evitare, ma che perlomeno sia oggetto di un attento monitoraggio per il futuro. Al momento il clima è un clima costruttivo, di ascolto reciproco e anche di possibilità di individuazione di obiettivi da raggiungere, come maggioranza insieme anche al collega di Italia Viva Sguanci sicuramente teniamo moltissimo al lavoro di questa commissione e la riprova è che il piano di lavoro, il programma di lavoro è stato approvato all'unanimità, tutti i gruppi hanno portato il loro contributo e noi ci teniamo a evidenziare come questa commissione possa essere anche uno strumento fondamentale, ad esempio per richiamare il governo a fare quello che deve fare, a fare quello che era stato promesso, ovvero a mettere a disposizione anche i fondi assicurati perché questo sarebbe un atto molto importante, quindi sicuramente utilizzeremo la commissione anche per esercitare questa forma di stimolo e di sollecitazione. È tutto da cronache e commenti, grazie di averci seguito anche per questa puntata, l'appuntamento è ogni settimana e dunque anche la prossima. Arrivederci.